Musica Arriva in aula la prima variazione di bilancio di previsione 2024-2026 della regione Toscana. La manovra prevede uno stanziamento per il 2024 di oltre 21.350.000 euro, per il 2025 di un milione di euro, per il 2026 di 189.000 euro. La manovra è stata illustrata in aula dalla Presidente della Commissione Bilancio, Giacomo Bugliani, che ha messo in evidenza gli obiettivi della misura. Quello principale ha spiegato riguardo il riequilibrio delle risorse economiche del servizio sanitario regionale. Una misura importante che viene affrontata soprattutto attraverso la destinazione di una quota importante dell'addizionale regionale dell'IRPEF, proprio al tema della sanità e del risarimento dei bilanci della sanità della Toscana. Ci sono poi interventi a favore di alcuni comuni toscani. C'è un contributo importante che viene dato ad Autolinea Toscana e SPA, proprio per l'erogazione dei servizi a tariffa agevolata. La regione toscana concorre con una cifra che si avvicina ai 4 milioni di euro, proprio per integrare la disponibilità di queste risorse. Ci sono poi due misure più puntuali, una da 500 mila euro per il comune di Aulla, per compiere l'ultimo atto di risistemazione del comune a seguito dell'alluvione del 2011, con la riqualificazione della sala polifunzionale del comune, e dall'altra uno stanziamento di 350 mila euro per il comune di Camaiore, per sistemare la strada che porta al Parco della Pacia, Sant'Anna di Staziema, che è interessata da un importante movimento franoso. Interviene anche il Presidente Eugenio Gianni, che ha presentato una serie di emendamenti. Si tratta di mezzo milione, 500 mila euro per le donne che sia per tumore o per altre cure molto difficili hanno la necessità della parrucca, perché la loro calvizia per le cure che intraprendono non debba essere così evidente. In secondo luogo, due milioni e mezzo per le indennità premiali per i pronti soccorsi, che servono per motivare i medici a stare nei pronti soccorsi, magari negli ospedali di aree più esterne della Toscana diffusa. E poi quasi 800 mila euro per coprire tutte le domande delle famiglie che si trovano a avere situazioni di disabilità e che avevano presentato la domanda che non eravamo riusciti ad evadere nel contesto del 2023. E poi 150 mila euro per l'Istituto della Resistenza, Toscana della Resistenza, del resto sono gli 80 anni dalla liberazione. Insomma, una serie di misure che si aggiungono ai 500 mila euro sui forestali, ovvero una tranquillità nella retribuzione di questi operai che sono direttamente alle dipendenze delle unioni dei comuni. A favore della manovra hanno votato PD e Italia Viva, Contrari, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, mentre il Movimento 5 Stelle non ha partecipato al voto. Per Italia Viva sono soprattutto due i punti importanti della manovra. I fondi per evadere le richieste di supporto delle famiglie che hanno figli disabili, soprattutto affetti d'autismo, e il fatto che ABBA venga per sua direttiva ancora riconosciuta là dove fino ad oggi questo tipo di servizio veniva offerto alle famiglie e ne facevano richiesta. Come detto, il no arriva dai gruppi di centrodestra. Una totale assenza di programmazione, uno sforzo finanziario come quello che è stato richiesto ai cittadini toscani con l'aumento dell'IRPEF che doveva servire a ricucire quello che era stato lo squilibrio del bilancio della sanità. In realtà oggi assistiamo nuovamente ad un bilancio che ci viene portato in aula in fretta e furia con degli emendamenti che ci sono stati illustrati stamattina e che di fatto però nulla sposta rispetto al tema centrale che è quello della programmazione e della razionalizzazione della spesa sanitaria. Ancora una volta arrivare in aula al di là delle dichiarazioni in commissione di Gianni una serie di emendamenti. Al di là del merito occorre individuare sicuramente una mancanza di programmazione e a volte una difficoltà di interlocuzione corretta con l'opposizione. Faccio notare per esempio che ci sono 8 milioni per la cultura dei quali avevo chiesto scheda analitica ormai da due sedute di commissione fa e che ancora praticamente non mi è arrivata. C'è uno storno per quanto riguarda i costi della sanità. Sappiamo che sono state aumentate le tasse dei Toscani addizionali per circa 200 milioni e 10 milioni erano stati destinati all'alluvione, 190 milioni invece erano stati destinati appunto per coprire i buchi della sanità. Di questi 190 milioni abbiamo visto che c'è stato un accertamento di 168 milioni quindi 22 milioni che si potranno spendere in modo differente. Di certo siamo in attesa del provvedimento della Corte Costituzionale per quanto riguarda il payback, una data capestro quella del 22 maggio, ma per far sì che vi possa essere una gestione oculata della spesa ci vuole programmazione. Manca un criterio nei fondi, dice il gruppo misto. Perché guarda caso ci sono tanti soldi che vengono erogati a dei territori che vanno al vuoto per cui probabilmente è il gioco della politica, non mi piace, non so se lo faremmo anche noi se ci fossimo in maggioranza, ad oggi posso soltanto dire che sono contrario a quello che succede fatto da questa maggioranza. Provvedimento che delude il bilancio della sanità resta preoccupante per il Movimento 5 Stelle. Ma la cosa più grave è che siamo arrivati di nuovo all'ultimo momento a presentare emendamenti anche molto importanti come la copertura di tutto il 2023 per le famiglie con migliori e con disabilità con un emendamento appunto presentato in aula nel momento stesso dal Presidente Gianni. Mentre invece si sono andate poi di nuovo a coprire tante altre voci di bilancio di cui probabilmente si può fare a meno che possono essere finanziate negli anni successivi. come ad esempio il campo da golf del Casentino piuttosto che altre iniziative che appaiono a essere molto più spot. Non abbiamo votato pur votando favorevolmente a quegli emendamenti che secondo noi sono il minimo indispensabile ma ancora non si ha la stabilizzazione finanziaria di misure come vita indipendente, le misure per i minori disabili e per le loro famiglie. Ad approvazione finale soddisfatto il capogruppo del PD. Pensiamo alle risorse che serviranno per incentivare i medici che lavorano nella medicina d'urgenza quindi nei nostri pronti soccorso oppure gli 800 mila euro che serviranno per completare le graduatorie per dare i contributi a tutte le famiglie che hanno fatto domanda nel 23 che ancora non erano state finanziate perché hanno presenza di familiari con handicap gravi oppure le risorse per pagare gli stipendi agli operai forestali o quelle per dare contributi ai comuni disagiati. E in ultimo quello per gli istituti storici della resistenza proprio quest'anno nei quali ricorrono gli 80 anni dalla resistenza in Toscana e credo che sia veramente importante dal punto di vista civile valoriale ricordare quegli accadimenti e quei momenti che hanno dato vita alla nostra democrazia. Si torna a parlare di edilizia pubblica in consiglio regionale con l'aula che approva con il voto favorevole di tutti i gruppi tranne il Movimento 5 Stelle che si astiene il piano regionale di cessione aggiornato. In aula arriva anche la proposta di legge di Fratelli d'Italia finalizzata a rinnovare ed estendere il patrimonio ERP. L'atto prevedeva una tantum la possibilità di riscatto del 10% degli alloggi disponibili investendo il ricavato per la realizzazione o l'acquisto di nuovi alloggi e per la manutenzione straordinaria di quelli vecchi. In Toscana ci sono 4.800 alloggi popolari vuoti perché non abbiamo i soldi per poterli ristrutturare e quindi darli a chi sta in gradatoria da anni. Noi chiediamo di fare un grande piano di riscatti riservato soltanto a coloro che stanno negli alloggi popolari in maniera continuativa da almeno 18 anni. Con i soldi che si recuperano dal far riscattare l'alloggio popolare da chi già ci sta dentro possiamo ristrutturare tutti i 5.000, i 4.800 alloggi popolari vuoti e consegnarli a chi sta in graduatoria e costruendo i nuovi. È una proposta di buonsenso, ahimè la sinistra ha votato contro, noi la ripresenteremo nei prossimi anni. Proposta respinta con 20 voti contrari PD, 13 quelli a favore Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Che le politiche abitative richiedono più risorse, mentre noi siamo di fronte a un governo che ha tolto le risorse per i fondi affitti, per l'amorosità incolpevole e che viene a fare lezioni su quelle che sono le necessità del sistema e che non sta mettendo soldi per fare nuove case popolari. Il tema ERP trova una risposta se si riescono a trovare risorse per aumentare questo patrimonio. Vendere il patrimonio a casa mia, vendere non vuol dire aumentare il patrimonio ma vuol dire ridurlo, tant'è che noi i dati che ci hanno portato è che per comprare una casa nuova ci vogliono tre vendite. Questo è il rapporto che c'è le vendite, i prezzi ERP che sono agevolati e l'acquisto di nuovi alloggi. Quindi vuol dire impoverire il patrimonio ERP. E comunque sia, al di là delle volontà di tutti, sono tutte insomma quelle proposte che sono venute dall'opposizione, sono proposte di bandiera perché se guardiamo il piano degli ultimi cinque anni, negli ultimi cinque anni in Toscana erano messi nel piano vendita 4.500 alloggi, quasi 10% del patrimonio complessivo di alloggi ERP, erano vendibili 1.400 alloggi e ne sono stati venduti 178 in cinque anni. Perché quello che interessa non è aumentare il valore intrinseco ma avere un numero sufficiente da poter, come dire, lenire il bisogno di abitazione soprattutto tra le famiglie più fragili in questa regione. Noi siamo anche favorevoli alla vendita in alcuni casi, soprattutto là dopo ci sono condomini misti perché sono di difficile gestione, nel senso che se noi abbiamo la minoranza dei millesimi dobbiamo sottostare chiaramente a quella che può essere la maggioranza quando si decidono lavori di intervento. Si parte anche qui da un'idea sbagliata di quello che dovrebbe fare un ente pubblico per gestire il problema. Perché la possibilità di avere delle case popolari da dare alle persone che hanno bisogno è uno strumento che permette di governare un fenomeno. Se io vendo parte di questi alloggi a delle persone che hanno mutato la loro condizione economica, vuol dire che quelle persone non hanno più bisogno di un alloggio popolare o di un aiuto, anche un contributo. Probabilmente perché i figli sono cresciuti, sono andati a lavorare. Sono tante le possibilità della vita. Quindi io non vedo la necessità di vendere questi alloggi che l'amministrazione può adibire a persone che hanno veramente bisogno, ma venderle a persone che hanno mutato la loro condizione. Respinta anche una proposta di risoluzione di Fratelli d'Italia che impegnava la Giunta a promuovere protocolli per l'accesso ai catasti di stati esteri. Per poter accedere alle graduatorie ERP bisogna dimostrare di non avere proprietà immobiliari in Italia o all'estero. Questo controllo viene fatto sicuramente sui cittadini italiani, ma è fatto in maniera difficoltosa, a volte quasi impossibile, nei confronti dei cittadini che provengono dall'estero, perché non c'è l'accesso ai catasti esteri. Noi abbiamo proposto di fare dei protocolli di intesa con gli stati esteri, con quelli dai quali arrivano il maggior numero di cittadini stranieri che poi fanno la graduatoria delle case popolari e poter fare questo controllo incrociato. Io spero che lui sia contento e fiero di quello che stiamo facendo per portare avanti la sua arte e per ricordarlo. Quindi spero che ci guardi e che sorrida. Al cinema la Compagnia di Firenze è la prima delle due serate dedicate a Francesco Nuti per ricordarne la figura e l'opera cinematografica e per rappresentare il premio a lui intitolato l'iniziativa organizzata da Filmaria è stata realizzata grazie al patrocinio e al contributo del Consiglio regionale della Regione Toscana. Mio padre penso di poter dire che la sua firma principale è il fatto di essere un artista completo quindi a 360 gradi cantava, recitava, lavorava come regista, dipingeva, scriveva quindi questa è secondo me una delle sue caratteristiche più forti. La proiezione del film Casablanca Casablanca poi premia Claudio Bisio presente in aula e a Sabrina Ferilli che ha mandato un videomessaggio da Roma. Claudio Bisio artista completo poliedrico camaleontico nato dal teatro ha saputo coltivare un talento unico non solo come comico e cabarettista ma anche come presentatore, doppiatore, attore interpretando ruoli diversi tra il dramma e la comicità fino a debuttare come regista. È tra le personalità più ironiche, intelligenti e ingegnose del cinema italiano. Questa la motivazione delle premio. Invece far ridere no, non è così facile. Ci vuole cultura, ci vuole talento ma anche sapienza autoriale di testi. La cosa bella di Francesco, quei Giancattivi anche dopo da solo, era proprio anche la scrittura, la scrittura che è anche cultura ovviamente, però cultura leggera, perché no? La seconda serata di questo evento è in calendario per martedì 23 aprile. È un modo semplice per dire grazie a un ambasciatore della Toscana nel mondo. Non è stato soltanto un grande uomo di cinema. Con le sue opere è riuscito ad emozionarci, a raccontare la Toscana ma a costruire poesia. È uno di quegli autori che porto nel mio cuore e uno di quegli autori che porta la Toscana nel mondo. Grazie a tutti.